Non c'è nessun contrasto tra i partiti e i gruppi civici che sono al fianco del sindaco Maglio Torquato. Tutto chiarito con il Partito Democratico, alla luce anche dell'appoggio dato a Michele Strianese che è stato eletto presidente della provincia di Salerno ed è un uomo del Partito Democratico. Sui confronti tutti interni al gruppo civico moderati per Torquato, il sindaco ha invitato a non soffermarsi perché li ritiene di scarsa importanza. La maggioranza è sempre solida sebbene ci sia qualche polemico, qualche gruppo civico? Non mi occupo delle beghe da cortile e delle polemiche di carattere infantile. Detto questo io non credo che debba aggiungere altro, sono cose che non mi interessano affatto, anzi suggerisco proprio per decoro di parlare delle cose di cui bisogna parlare che sono gli argomenti che abbiamo trattato adesso dalla questione multiservizi alla questione cooperativa pulizia alla questione del mercato rionale e non a litigi che non hanno nessun senso. Abbiamo fatto un'importante riunione dei capigruppo che è un organismo di riferimento dal punto di vista della gestione amministrativa del sindaco, parliamo dei capigruppo di maggioranza, su alcuni temi sarà necessario allargare, come ho detto già in Consiglio Comunale, il dibattito anche ad altre forze che siedono all'opposizione e capire che qui c'è un'amministrazione, noi non siamo abituati né a perdere tempo né a fare chiacchiere in libertà, abbiamo rispetto soprattutto dei problemi dei più deboli, di coloro che sono in difficoltà dal punto di vista lavorativo, ma non accettiamo né di farci mettere le parole in bocca come si suole dire, né di far fare sulla peverle dei poveri Cristi speculizioni politiche a chi che sia, perché noi siamo quelli che in sei anni i problemi li abbiamo affrontati, gestiti e provati a risolverli senza penalizzare a nessuno. Abbiamo dato prova provata di l'area civica che per ragioni strettamente territoriali, non per ragioni partitiche, non per ragioni politiche e non per condivisioni di percorsi di area politica, ma nel rispetto di un'impostazione che abbiamo dato alla nostra amministrazione, alla nostra città, abbiamo dato un contributo importante per l'elezione del Presidente Estrianese, qui va il mio saluto e il mio in bocca al lupo, il lupo è stato riconosciuto in modo palese pubblico e quindi non credo che ci sia bisogno di perdere altro tempo su altre questioni.